Dopo la presentazione delle squadre, veniamo al primo singolare. Con un avvio fulminante, Simone trova il break al secondo game, 2-0, ma viene subito raggiunto sul 2-0. Al sesto game, il break è decisivo, 4-2, che poi Simone si porta dietro fino alla fine del set. Qui vi mostriamo il suo turno di battuta finale del primo set. Grazie. 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 Dopo la vittoria del primo set per 6-3, nel secondo parziale, il punteggio rimane in equilibrio fino a 2 pari, quando il giocatore di casa breaka con autorità il suo avversario. Simone poi allunga sul 4 a 2 e poi un nuovo break lo porta avanti 5 a 2 qui vediamo il momento del match point grazie